Mi sembra che il regioismo differenziato non c'è e le cose per il Molise non vanno bene come lei stesso sostiene e non credo che una cosa di cui si parla solo può essere la causa dei mali odierni. I mali odierni passano un po' anche dall'incapacità delle classi dirigenti ma passano anche per una distribuzione dei fondi sanitari iniqua per il Sud voluta dal PD con una riforma di 30 anni fa che ha assegnato le risorse in base all'anzianità della popolazione e allora il Sud era molto più giovane, rimane ancora adesso molto più giovane rispetto al Nord passa anche per probabilmente una riforma del titolo V che ha creato molte confusioni. Il tema della sanità non è togliere alle regioni che sono più capaci ma è dare alle regioni che sono incapaci e il governo deve farsi carico in quel momento. Io quindi credo che il tema originario sia eleggere una buona classe dirigente, penso che Roberti come Presidente possa essere la risposta giusta, un bravo amministratore, sindaco, Presidente della provincia, nel caso specifico consiglieri regionali come Massimiliano Scarabeo che ha una sua competenza e altri della squadra di Fratelli d'Italia che possono dare una svolta. Il governo certamente aiuterà le regioni di difficoltà sul piano finanziario e interverrà anche rispetto a quelle regioni che sono incapaci non con un commissariamento finanziario ma con un intervento forte a sostegno ha fallito il commissario, è incapace la regione Molise. La regione Molise parliamo di quello che viene, certamente se le cose vanno male nella sanità insomma bisognerà prendere atto del fatto che bisogna cambiare e noi siamo convinti perciò abbiamo scelto Roberti che è una persona che possa fare bene. Rai Molise c'è anche una grande tematica che riguarda lo spopolamento e quindi la carenza di anche lavoro o comunque rendere attrattiva questa regione è uno dei grandi temi di questa campagna elettorale. Sicuramente Molise ha bisogno di strutture, infrastrutture di mobilità innanzitutto che creano una maggiore occasione di sviluppo economico. Sicuramente c'è la necessità di queste infrastrutture che creino le occasioni per investimenti e per un rilancio del settore primario che va migliorato dal punto di vista della qualità, la nostra agricoltura ha una grande capacità tradizionale ma va resa sempre più di qualità, il settore industriale è sofferente e ha bisogno di infrastrutture importanti, senza un settore industriale che tira certamente non si può pensare di creare veri posti di lavoro e poi ci sono grandi potenziali atturisti che Molise ha un mare straordinario, dobbiamo fare in modo che sia maggiormente raggiungibile e bisogna migliorare la qualità dell'offerta turistica. Da questo punto di vista il governo può fare molto per migliorare le condizioni generali dello sviluppo economico ma è chiaro che la regione con le attuali regole regionali che danno molto potere alle regioni sul tema della programmazione della agricoltura, dell'industria e del turismo sicuramente può essere determinante.